buongiorno a tutti io sono rosu valentin sono nato cittadino libero voglio sapere la verità di quello che sta succedendo non voglio sapere dal mainstream cioè i canali di intrattenimento dove alcuni personaggi vengono invitati ovviamente a pagamento e dicono e anzi fanno terrorismo mediatico senza un briciolo di prova io chiedo l'evidenza scientifica non parole al vento per questo ho aderito all'esposto epocale se anche tu sostieni di essere un cittadino libero e vuoi sapere la verità aderisci all'esposto epocale punto it grazie